E' stato individuato e arrestato il presunto assassino di Roberto Tizzi, freddato ieri sera con tre colpi di pistola a Martinsicuro. I carabinieri hanno fermato un albanese di 49 anni. Un'esecuzione in piena regola, consumata poco dopo le 22 in via Vasco de Gama, nel quartiere Tronto di Martinsicuro. La vittima, 35 anni, di origine marchigiane, in passato aveva avuto problemi con la giustizia per essere stato condannato per truffa. Tizzi stava scendendo dall'auto condotta dalla moglie quando è stato freddato sotto casa da tre colpi di arma da fuoco che lo hanno raggiunto in viso, tutto sotto gli occhi della sua compagna, rimasta lievemente ferita a una gamba e ancora sotto shock, che diventa ora super testimone capace di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Tra le ipotesi del fatto di sangue, forse un regolamento di conti a seguito di una rissa scoppiata nel pomeriggio davanti a un bar, discussione nella quale è rimasto ferito l'albanese arrestato. Poi in serata il tragico epilogo, sul posto i carabinieri di Alba Adriatica, Martinsicuro e Teramo, il sostituto procuratore Bruno Ariemma e il medico legale Giuseppe Sciarra. La fuga dell'albanese, che subito dopo la discussione al bar di ieri sera si è reso latitante, è finita intorno alle 12 e 30. Stamane, intanto, è stata effettuata la ricognizione cadaverica da parte dell'anatomopatologo Giuseppe Sciarra, che si trova all'ospedale di Teramo.